...proprio i nostri cittadini attraverso una scelta consapevole, libera e che vada indirizzata verso l'interesse generale e non l'interesse particolare della carriera politica di una sfortunata Presidente della Regione, di una Regione ancora più sfortunata in quanto a lei come Presidente. Grazie. La ringrazio. Facoltà di intervenire è il rappresentante del Governo, se lo ritiene. Si riserva. A questo punto, Onorevole Sanna, primo iscritto. Grazie, Presidente. Colleghi, ma all'autonomia speciale si può contrapporre un argomento, e tanti hanno questa opinione oggi, per la quale non ha più senso, ma se si ritiene che abbia senso, come dovrebbero pensarla tutti coloro che sono ispirati ad un ragionamento di corretta lettura storica, anche dell'esperienza delle nostre Regioni a Statuto Speciale, dobbiamo mantenere le conseguenze che sono scritte nella specialità. Nella specialità del Friuli-Venezia-Giulia, come in quella della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, c'è sicuramente, dal 1993, quindi oltre vent'anni, la possibilità di curare, sotto l'aspetto legislativo, in modo esclusivo e integrale, l'assetto delle autonomie locali. E quindi anche quello che è oggetto della critica oggi, diciamo, di metodo che abbiamo ascoltato della Lega Nord, che non si capisce quando propone province autonome, se voglia proporre l'istituzione di nuove microregioni dentro il Friuli-Venezia-Giulia, sembrerebbe così, posto che l'unico senso dell'espressione provincia autonoma è questo, o seppure voglia sopraffare con questa proposta i poteri della stessa Regione e del Consiglio regionale, che esso solo ha, quindi non più lo Stato, ma solo il Consiglio regionale, ha il potere di istituire o regolare diversamente il sistema degli enti locali di quella Regione. Con un piccolo problema, che così come capita allo Statuto della Sardegna, unica altra Regione a contenere esplicitamente questo riferimento, perché la Sicilia non lo ha più, anzi non l'ha mai avuto dall'inizio della sua storia autonomistica, vi è un riferimento alle province che può essere considerato impeditivo ad una profonda riorganizzazione delle autonomie locali. A livello nazionale stiamo dicendo che questa operazione la vogliamo fare, ridando, rifacendo partire i poteri delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà dal basso e quindi reinvestendo sui Comuni, reinvestendo sulla Regione e tutto quello che c'è tra i Comuni e la Regione va ridistribuito secondo un'accurata applicazione del principio non solo di sussidiarietà ma anche di adeguatezza. Colloco la funzione dove è meglio collocarla. È una funzione che può essere svolta da un Comune? La colloco presso i Comuni. È una funzione di programmazione generale della Regione? La colloco presso la Regione. È una funzione di aria vasta? Devo organizzare un sistema di gestione delle funzioni di aria vasta, quello che sta facendo il Friuli. Ma io qui, nell'aula del Parlamento italiano, non devo parlare di che cosa sta facendo il Consiglio regionale del Friuli. Non perché non mi interessi, ma perché sono profondamente rispettoso del potere che si esprime in quell'Assemblea legislativa, che ha la stessa dignità di tutte le altre assemblee legislative delle Regioni. E allora mi fermo a quello che propone il Consiglio regionale del Friuli e scopro che è tutto molto sensato. Il Friuli Venezia Giulia. Omaggio agli amici di Trieste che non devono essere dimenticati mai durante l'esposizione completa appunto del nome della Regione. E quindi che cosa dice questo disegno di legge costituzionale? Sopprime le province, ma richiama implicitamente un potere forte del Consiglio regionale di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali. Abbassa da 25 a 18 anni l'elettorato passivo per potersi candidare nel Consiglio regionale. Attiva un principio per cui serviranno meno firme, 5.000 e non più 10.000, per l'iniziativa legislativa popolare. Questa potrebbe essere per il Friuli Venezia Giulia l'ultima delle revisioni dello Statuto, anzi io auspico che lo sia, fatta col sistema che stiamo applicando, l'articolo 138 della Costituzione e le disposizioni dello Statuto. Perché con la riforma una revisione complessiva dei poteri delle regioni speciali passerà certamente attraverso una lettura finale del Parlamento, ma sulla base delle intese tra la regione e lo Stato. Quindi le regioni autonome e il Governo italiano, con tutti gli strumenti di partecipazione del Parlamento che seguirà la fase negoziale pattizia. Dico pattizia sapendo cosa voglio dire e insistendo su questa espressione perché c'è lì la possibilità di intrecciare la sorte e il futuro rinnovato della specialità delle nostre regioni, di quella del Friuli Venezia Giulia, che però si ritrova nella possibilità oggi di concludere rapidamente un profondo restyling dei suoi poteri per quanto riguarda il sistema delle autonomie locali. Tutto quello che si discute a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, negli organi politici della regione autonoma è un tema che legittimamente può vederci su posizioni differenti, ma riguarda, direi, rispettosamente quel livello di discussione politica. Noi qui creiamo solo le condizioni di possibilità perché in futuro, nella pienezza democratica, il Consiglio regionale, l'Assemblea democratica del Friuli Venezia Giulia si possa esprimere, ripeto, nella pienezza dei poteri autonomistici. Grazie. La ringrazio. Onorevole Sandra Savino. Grazie, Presidente. Io consegnerò l'intervento, ma vorrei solo fare alcune precisazioni. Rispetto alle parole dell'onorevole Sanna, se la modifica dell'architettura istituzionale deve partire dal basso, ricordo che la politica regionale a Guida Serracchiani ha delegato questo nelle aule dei tribunali. Tant'è che su 219 comuni della regione Friuli Venezia Giulia, quasi 60 comuni hanno fatto ricorso contro la costituzione delle unioni territoriali intercomunali. Quindi credo che l'aver dato, mandato ai tribunali di risolvere questioni che in realtà corrispondono e devono corrispondere alla politica, sia un segnale che in realtà tanto dal basso questa riforma non passa. Quindi se vogliamo fare un esercizio di democrazia all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, bene farebbe la Presidente ad ascoltare puntualmente quelli che sono i soggetti maggiormente vicini al territorio proprio nelle loro...